Siamo stufi dei comunicati stampa di solidarietà che non servono a niente se non ammettersi qualche finta medaglia, così come siamo stufi di sentirci dire che si è fatto il proprio dovere perché sono stati presentati ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato a rincarare la dose sulla vicenda SNAM e coordinamento NOAB del gas che attacca la politica a vari livelli. Le due sentenze del Consiglio di Stato sono uno schiaffo ai diritti di un intero territorio. Che senso ha dire la sovranità a partire al popolo quando ciò che il popolo ha deciso attraverso tutti i rappresentanti a ogni livello, comuni, provincia, regione e Parlamento non conta nulla, si chiede coordinamento, che aggiunge che la centrale e i metanodotto non servono assolutamente a niente se non a fare soldi alla SNAM, lo sanno ormai anche le pietre, altro che opere strategiche. Il gas non ha futuro, lo sanno bene le grandi multinazionali del settore che si stanno attrezzando per riconvertirsi verso altre fonti energetiche come l'idrogeno. Tutte queste cose le sanno bene la SNAM e i governanti che li reggono in sacco, conclude il coordinamento NOAB del gas. Il guadagno non è tanto nella rivendita del gas ma nell'intascare soldi per la costruzione delle opere. A questo punto, visto che chi deve ascoltare i cittadini non vuol sentire, non resta che la lotta, democratica e non violenta. I partiti e i nostri rappresentanti istituzionali a tutti i livelli organizzino delle manifestazioni a Roma sotto i palazzi del potere. Noi siamo pronti.